L'associazione Asso Pace Palestina di Sondrio, nei giorni scorsi ha organizzato una cena con il coinvolgimento dello chef Shadi, già ospite di trasmissioni tv dedicata alla cucina e gli studenti del polo di formazione professionale di Sondrio. L'incontro fra cucina palestinese e valtelenese è una gioia per il palato che tende la mano alla solidarietà. Un obiettivo, finanziare il diritto allo studio dei ragazzi della Valle del Giordano. Non mi aspettavo una risposta simile, commenta entusiasta Chef Shadi, la sala è al completo, la cucina palestinese ricca di spezie e sapori ha fatto centro. Una parola sola? Fenomenali, guarda, i ragazzi sono venuti oggi a darci una mano, hanno aiutato a creare i piatti, a assemblare, mi è piaciuto tantissimo il loro entusiasmo, sono molto entusiasti e si vede che faranno carriera in questo ambito perché hanno proprio voglia, si divertano, giocano. Una cosa in più che gli dà ulteriormente valore, aggiunto, a quello che stanno appunto apprendendo anche nella nostra scuola.